Paolucci, questa mattina ha interpellato l'assessore regionale Verri per conoscere lo Stato dell'Arte sull'edilizia sanitaria regionale. Siamo fortemente delusi, il rischio è che si riparta da zero. Io voglio ricordare che in questi otto mesi non c'è stato neanche uno scambio di corrispondenza tra il Ministero e l'Assessorato alla Sanità e la struttura dell'Assessorato alla Sanità circa l'edilizia sanitaria. Ci sono però 143 milioni di euro trasferiti solo sull'articolo 20 e gli 84 milioni ulteriori che giungono dalle risorse del sisma per quanto riguarda Teramo. E' penne e tutto è fermo. Non vorrei che, poiché si è ingabbiati sulle promesse elettorali che poi non si è in grado di mantenere e rispettare, non si sia in grado di decidere, scegliere e senza la rete ospedaliera noi non avremo né i nuovi ospedali né le nuove assunzioni. E' sempre di più un'aggiunta lenta, ferma e immobile perché immagina di galleggiare per non scontentare nessuno. Ma cinque anni così non reggono e rischiamo di perdere centinaia di milioni di euro già assegnati alla Regione Abruzzo per i nuovi ospedali.